Tanta paura questa mattina all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore a prendere fuoco, questa zona dove si trovano i cassonetti dei rifiuti, come vedete alle nostre spalle tutto è andato a fuoco, un ricettacolo anche di suppelletti dell'ospedale, c'è un po' di tutto, si parlava anche della presenza di cassonetti per i rifiuti speciali, accanto dovrebbero esserci anche dei bomboloni dell'ossigeno, li vediamo appunto in queste immagini e sembra che a prendere fuoco sia stato il compattatore della carta che è presente qui intorno. Ovviamente immediato l'intervento dei vigili del fuoco, del distaccamento di Nocera Inferiore che hanno domato immediatamente l'incendio, un fumo nero si è alzato qui all'esterno dell'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore provocando anche tanta paura tra i pazienti che hanno potuto notare proprio questa colonna di fumo. Per fortuna l'incendio è stato domato, ora resta soltanto il lezzo e l'odore acre di suppelletti che sono andati in fumo. Indispensabile l'arrivo dei vigili del fuoco in quanto pare che il sistema antincendio non sia stato sufficiente per domare le fiamme e dopo lo spavento si cerca di capire le cause dell'accaduto saranno i caschi rossi a chiarire la dinamica tra le ipotesi che più si fa strada quella di una scintilla dal vicino compattatore della carta che complice le temperature calde può aver innescato l'incendio. Anche le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza potrebbero contribuire a far luce sull'episodio che per fortuna ha causato solo la distruzione dei cassonetti, dei rifiuti e delle suppellettili. Grazie a tutti.